Sento gli svizzeri che giustamente ci fanno pesare il fatto che loro stanno facendo il gottab, quindi in dieci anni hanno fatto 57 km di galleria, bravissimi, faccio umilmente notare che noi nello stesso tempo abbiamo fatto 500 km di alta velocità e 78 km di galleria, questo lo dico ad uso e consumo soprattutto di molti giornali che sono abituati a essere un po' tappazziani e evidenziare soltanto ciò che in Italia non va, ma noi abbiamo fatto molto ma molto di più degli svizzeri nello stesso tempo.